Cari amici, cari ragazzi, cari bambini, siamo in un momento forse unico, mai vissuto fino ad ora, né da noi né dai nostri genitori. Non possiamo uscire di casa, incontrarci, abbracciarci. Alcuni di noi avranno incontrato il virus da vicino, tutti siamo stati messi di fronte alla gravità del momento, a tutti sono state chieste grandi rinunce. Nell'ultimo mese da parte dei nostri amici missionari stanno arrivando sempre più frequenti lettere che raccontano la drammaticità che questa situazione di quarantena porta con sé in paesi poveri. Per noi in Italia quarantena significa paura del virus, non andare a scuola, rimanere a casa, smart working, rinunciare a vedere parenti e amici, guadagnare meno, preoccuparsi di un futuro che appare più incerto. Anche in missione siamo in casa, però in modo diverso. Le vecchiette venivano, ci abbracciavano, per fortuna voi non siete andati via, bravi che siete rimasti, baci, abbracci, eccetera. Allora abbiamo messo un tavolo, adesso vengono suonando la campanella, din din din, portiamo i viveri e gli mandiamo i baci così, volanti. La gente dalla costa e dalla città sta scappando e sta arrivando qua. Cominciano ad arrivare famiglie, gruppi, a volte con i bus, a volte a piedi, camminando. Per chi non ha nulla, come i poveri che aiutiamo nelle nostre missioni, la quarantena significa soprattutto morire di fame. Come ci scrive chiaramente il padre Armando nella sua lettera. Carissimi, anche qui in Perù questa pandemia sta iniziando a svilupparsi. Il sistema sanitario quasi inesistente è già collassato ancora prima dello sviluppo dei casi. Vi è quindi una emergenza sanitaria su cui noi direttamente possiamo fare pochissimo. Ma c'è un'altra emergenza che invece arriva dritto ai nostri cuori. È il grido di fame che si alza dalla gente. Tutta la mia parrocchia è composta di famiglie che non hanno un lavoro regolare. La maggioranza vive di lavori saltuari, espedienti e tutti mangiano di quello che guadagnano nella giornata. Così in poco tempo in tanti è entrata la disperazione per non sapere come fare, per dar da mangiare ai propri figli. Ci siamo commossi, abbiamo incominciato a dare e siamo subito stati sommersi. Ogni 15 giorni con tutte le cautele del caso distribuiamo quasi 300 pacchi di viveri per queste 1200 persone, per un totale di quasi 8000 chili. In più continuiamo a dare qualcosina a chi bussa alla porta di casa, ma quello che facciamo è niente rispetto al bisogno reale che c'è. Padre Armando. Di fronte a questa e ad altre lettere ci siamo sentiti chiamati in causa. Malgrado le difficoltà di ognuno, noi dell'OMG Valtellinese vorremmo dare un aiuto. Anche piccolo. Riempiendo e inviando un container di viveri. Circa 150 quintali. Entri i primi di giugno. Proponiamo ad ognuno di raccogliere in famiglia 22 kg di viveri. Raccogliamo solo pasta, riso, zucchero, farina, scatolame, olio in latta, tutto con scadenza almeno 2021. Potete anche chiedere di farle lo stesso ad amici o parenti che pensate possano aderire. Ogni gruppo si organizzerà poi su come raccogliere il tutto. Siamo coscienti del periodo difficile che stiamo vivendo tutti e del bisogno che c'è anche in Italia. Però non possiamo restare seduti. Noi abbiamo bisogno di voi. Vero Pasco? Ora più che mai abbiamo bisogno del vostro aiuto che è un aiuto molto reale, concreto, importantissimo per poter continuare a dar da mangiare a chi non ha più niente, a tutte le persone che bussano alle porte delle nostre case, delle nostre parrocchie, così come la parrocchia del padre Armando a Cimbote, così come a Pucalpa, così come a Ciacas. Qua siamo a Ciacas, stiamo distribuendo i viveri, a Ciacas abbiamo anche l'ospedale e sinceramente non sappiamo quello che succederà nelle prossime settimane. Abbiamo bisogno di voi, davvero del vostro aiuto. Grazie a tutti e ciao, state bene.